Io sono Migliazzi Mauro e rappresento una società che è nata l'anno scorso, una start-up, si chiama WeSee. Attualmente WeSee è una start-up incubata all'interno di un incubatore legato a tecnologie applicate allo sport, che è Y-Lab. Ma di per sé l'idea nasce da un'esperienza ventennale nel settore del tele-rilevamento, dall'aereo, da satellite, in ambienti abbastanza importanti, alcune società europee, l'ENI, eccetera. Quello che si vuole fare è portare la tecnologia che fino a pochi anni fa era utilizzata solo con l'aereo, portarla sui droni e quindi tele-rilevamento multispettrale, che possa utilizzare più sensori nella termografia, nell'infrarosso vicino e nel visibile, contemporaneamente, per estrapolare informazioni che siano maggiori, diverse e magari più importanti di quelle che si potrebbero estrapolare da un sensore singolo. Luminous Beats secondo me è un'idea buona e innovativa, ne è dato dal fatto che non è di pochi giorni fa che l'Intel ha utilizzato uno jamme di droni per un evento, per il Super Bowl. Quindi l'idea, essendo che è stata ripresa da una società che è l'Intel, credo che non debba essere io a dire che è sicuramente un'ottima idea. Lì poi dipenderà molto come vorrà essere applicata e quali saranno gli eventi all'interno del quale poi questa idea prenderà piede. Ciao!